e ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi nuovo evento andiamo al carnevale di morro abli anzi vi portiamo sulla nostra carrozza di radiosale fm a letto bimbi ok listo? DJ Chica empieza oggi in un carro di radiosale fm in collaborazione con il moco con V-side e del bellisco buavola chicas DJ Chica e Sì, 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 sì Sì, 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 sì 1, 2, 3, 4, salut Mamma mia, che grazie! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Forza Bologna Forza Bologna Salud! Forza Bologna 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 musica musica Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.